Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, in molti in queste ore stanno mettendo in relazione i fatti di Modena con i fatti di predappio. Per chi non lo sapesse, a Modena vi era un rave party e come tutti i rave party vi era un raduno illegale, cioè non autorizzato. I rave party sono appunto raduni musicali dove si ascolta musica, si assumono sostanze stupefacenti, si beve, tutto il corollario che cortano con sé i rave party e non sono legali, dopodiché ci sono luoghi legali all'interno dei quali si beve e all'interno dei quali circolano stupefacenti, diciamo le cose come stanno. Una caratteristica dei rave party è quella di trovare dei terreni, degli edifici abbandonati o non utilizzati e impiantare lì tende, camper, macchine e ascoltare per due, tre, quattro giorni, cinque giorni meno interrotta musica e questo è il fatto. A Predappio invece è andata in scena come tutti gli anni, quest'anno con ancora più partecipazione, la marcia per ricordare la marcia su Roma, per omaggiare Benito Mussolini, per gridare presente al duce, per ribadire l'orgoglio fascista. I due fatti non sono ovviamente collegati, ma alcuni dicono che scandalo un governo che reprime il rave party e autorizza la manifestazione di Predappio. Ragioniamoci un attimo. Su Predappio è molto facile in realtà la questione. Quella è una manifestazione di commemorazione all'interno della quale per tanti motivi alcune pratiche, tra cui il saluto romano, viene tollerato perché è una sorta di commemorazione, potremmo dire quasi rievocazione e dunque le autorità hanno sempre chiuso un occhio, non l'hanno considerata mai una marcia fascista, ma una commemorazione con tanto dimessa ed è legale, nel senso che è autorizzata. Dal mio punto di vista andrebbe vietata, per quale motivo? Perché di fatto è un inneggiare al fascismo, perché di fatto c'è una marcia che rievoca un periodo storico fatto di guerra, di leggi razziali, fatto di violenza, fatto anche di cose buone, ma come ha detto Barbero ci mancherebbe che in vent'anni di regime non ci sia almeno una cosa buona, non so, sceglietela voi. Ma poi il mio amico Filippi nel suo libro ha già decostruito molti di queste cose buone che avevano fatto il fascismo, che in realtà poi non ha fatto perché c'erano già prima. Però è evidente che c'è un problema politico, la marcia di Predappio è uno schiaffo alla memoria, è uno schiaffo proprio alla resistenza all'antifascismo, ma alle radici repubblicane, le radici dunque della nostra Repubblica, le radici cattoliche, repubblicane, socialiste, comuniste, alle radici liberali della nostra Costituzione, che appunto è eterogenea ma ha un elemento in comune, l'antifascismo. Però quella è una manifestazione che sta tollerata da anni e anni dai sindaci, anche per anni e anni dai sindaci del PD di Predappio e dunque bisogna metterci mano a mio avviso, ma non vuol dire che il governo attuale chiude gli occhi di fronte a Predappio e va a reprimere la manifestazione illegale non autorizzata di Modena, semplicemente il governo tollera Predappio come lo hanno tollerato i governi precedenti. Poi è normale che in questo governo ci sono nostalgie del fascismo, persone che sono dichiarate fasciste fin dall'altro giorno come la russa, che dichiarano di non voler festeggiare il 25 aprile per tanti motivi. Adesso abbiamo di tutti dei sottosegretari, tra cui Durigon, fascista convinto, voleva appunto togliere un parco che era nominato, dedicato a Falcone e Borsellino per dedicarlo a gerarchi fascisti, è chiaro che siamo in presenza di un governo che ha delle simpatie, nonostante poi la minoria di metterlo le sue simpatie verso le dittature, fascismo compreso. Però questa manifestazione di Predappio non è figlia del governo. Invece è figlia del governo, l'intervento è molto deciso per sgomberare il rave party con tutta una serie anche di prese di posizione del tipo, non come la Morgese che tollerava molti ideologiche queste affermazioni, perché anche la Morgese in realtà è intervenuta, non è mai intervenuta in mano militare, perché non è mai intervenuta in maniera violenta per evitare appunto un bagno di sangue. E devo dire che è accaduto così anche questa volta. Questa volta la polizia ha mostrato lungimiranza, ha trattato, ha parlato di edificio pericolante, ha dialogato e dunque non c'è stato, come è giusto che non ci sia un massacro. È giusto che la polizia, che i questori, i prefetti, gli interni, tutti coloro che hanno la risposta dell'ordine pubblico, mettano più che mai la diplomazia al primo posto, mettano la salute dei cittadini, anche di quelli che hanno compiuto un'azione illegale, perché questo fa uno Stato che pretende di essere democratico, dice essere democratico. Vuol dire rispettare le leggi? Certamente, bisogna rispettare le leggi, io direi che tutti devono rispettare le leggi, governanti compresi, politici compresi, imprenditori compresi, invece spesso vediamo una legge che è molto muscolare e forte con i più deboli, con i soggetti marginali, ma è legge uguale per tutti, tutti devono rispettarla, a parte che alcuni si fanno delle leggi poi ad persona, per essere appunto più tutelati e garantiti, ma si spera che qua il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, intervengano per evitare questi scempi giuridici. Però la polizia è stata, diciamo, saggia. Altro discorso è come mai mostrare i muscoli dal punto di vista del governo o far finta di dimostrarli, ogliarli. Già Salvini su TikTok ha detto non è più, è come prima, finta la pacchia, addirittura nel decreto legge di questi giorni ci sarà un aumento delle pene per chi organizza il rave party. Ma perché? Questa è la mia, è la mia. Ripeto, opinione, ci sono delle cose che sono molto facili da fare, e dunque parlare dello Stratto di Messina, del ponte sul Stratto di Messina, parlare del rispingimento degli immigrati, parlare del mettere la il Presidente o la Presidente, tutte cose molto facili da fare, parlare del 25 aprile, parlare del fascismo, del post-fascismo, ci sono molte cose più difficili da fare, i salari, l'energia, il tema della sanità, della scuola. E tra queste cose facili da fare c'è anche quello dell'ordine e disciplina. La destra vuole far vedere che è arrivato al potere. Ordine, ordine e disciplina, dei cavalli di battaglia della destra, allora vende per ordine e disciplina questo sgombero, ripeto, che è avvenuto in maniera dialogata, spaccia anche per ordine e disciplina una stretta sui rave party. Vediamo se ci sarà. C'è una nuova legge che aumenta le pene, ma le leggi c'erano già prima, perché occupare un luogo privato senza autorizzazione, perché organizzare una festa su un territorio occupandolo non era possibile, chiaramente. Adesso però c'è un aggravante, questo sì, secondo me è discutibile, nel senso che era il caso di creare una nuova legge che poi prova poi fatta applicare, è il caso di inasprirla, la nuova repressione di rave party, cioè se tu ti ritrovi dalle 50 persone in su, a ballare, organizzare una festa, a una adunata, su un luogo privato senza aver chiesto l'autorizzazione, quella è organizzazione sediziosa di un rave party e dunque puoi prendere dai 3 ai 6 anni. Dunque c'è un nuovo reato di organizzazione di rave party e c'è una crescita delle pene. A me sembra in questo caso voler vendere al proprio elettore una muscolatura, una prova di forza, tutto ciò magari avverrà anche con delle operazioni sul territorio rispetto a immigrazione, rispetto a quelli che sono i clandestini, parola che torna ogni tanto nel vocabolario di Salvini, queste persone che fuggono, ma non fuggono, sono tutti belli, giovani, forti, ai tanti, vengono qua a rubare il lavoro, rubano talmente il lavoro che in Italia ha sempre più un saldo negativo tra le persone che arrivano e quelle che escono e le ditte, le aziende chiedono lavoro, hanno bisogno di lavoro. Dunque la retorica del rubano lavoro è caduta, però sicuramente ci sono dei provvedimenti anche in quella direzione per far vedere che l'elettorato ha scelto bene, anche per andare incontro al elettorato che ha sostenuto questo governo. L'ostro di Casima ci tornano poi sul tema delle mascherine, del Green Pass, tutto essere di provvedimenti molto forti per dire al proprio elettore ecco ci siamo, abbiamo girato pagina, molto forti almeno nella forma. Poi nella sostanza vi ripeto, andate a informarvi, leggete, vedete che la questione Ray Party è molto molto diversa da come poi è stata raccontata da certe testate giornalistiche. La polizia non è intervenuta in maniera diretta, intervenuta mediando e c'è stata una grande saggezza anche da parte di coloro che hanno organizzato il Ray Party, dimostrazione che la diplomazia conta, dimostrazione che dialogare conta, poi c'è l'altro problema. Ma questo riguarda più probabilmente il sottoscritto, non lo so, serviranno a un certo punto delle politiche giovanili, cioè dove si può ballare, divertirsi senza dover pagare 15, 20, 30 euro a entrare, senza magari dover pagare 15 euro un cocktail o pagare 10 euro una birra. No, chiedo, chiedo, faccio Salvini, posso chiedere, posso intervenire? Cioè è anche importante non approcciarsi al divertimento giovanile in ottica sua securitaria, nell'ottica di ordine e disciplina. Bisogna educare i ragazzi ovviamente a un divertimento responsabile per la salute propria e per gli altri, però ci sarà quel momento di divertimento un po' più dionisiaco, ci sarà questo momento perché altrimenti sembra che le persone che il dionisiaco l'hanno vissuto, un dionisiaco non proprio niciano, perché per Nietzsche il dionisiaco è quell'atto poi anche di volontà di potenza che consiste anche nel reggere il mondo senza Dio e nell'abbandonarsi la danza cotica dentro l'universo. Il dionisiaco è un senso di baccanali, cioè le generazioni passate, penso anche Salvini, Lameloni, probabilmente, Letta e andiamo indietro, probabilmente anche i politici precedenti, Berlusconi è in dionisiaco sempre nelle sue case, dei momenti dionisiaco potranno esserci anche di festa, di godimento, di piacevolezza, di spensata ma non collegate quello che vogliono al consumo a fior fior di soldoni, quella è una logica che piace, l'ordine disciplina non serve tanto, l'ordine c'è già, sono quei locali, lì dentro si può fare, lì storditevi, lì potete fare quello che volete, l'importante è che siate appunto in luoghi che noi vi riconosciamo. Dunque l'idea dell'autonomia di una presunta creatività, che poi per alcuni può essere cretinità, è questa che non è accettata. Sono alcune riflessioni libere per discutere, spero sempre con grande tranquillità, educazione. Volete sostenere Saudino, Barbasofia, TP? Vi lascio sotto il link. Settimana si aprirà, settimana post primo novembre, si aprirà con nuovi video dedicati a Schopenhauer, metterò in rete anche su Spotify la rubrica pedagogica, seguitemi su tutti i miei social e canali. A presto, un abbraccio.